Ci sono minori coinvolti sia nel ruolo di spacciatori che di assuntori di droga nell'operazione Rewind che ha visto questa mattina i carabinieri della compagnia di Amalfi eseguire 22 misure cautelari di cui 4 in carcere, 13 ai domiciliari e 5 con l'obbligo di presentazione nei confronti di altrettanti indagati residenti nei comuni della costiera amalfitana e delle province di Salerno e Napoli. L'inchiesta prende origine da un'altra attività investigativa denominata Isola Felice condotta nel 2016 sempre dalla compagnia di Amalfi che portò all'epoca l'arresto di 19 persone alla denuncia a piede libera di 15 persone. Due di queste sono coinvolte anche nell'attuale inchiesta. Le indagini hanno avuto inizio nel settembre del 2015 dopo un controllo da parte di carabinieri dei Maiori durante il quale un minore fu trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Tra gli episodi menzionati nel corso della conferenza stampa anche quello accaduto l'11 febbraio 2016 quando una persona attualmente indagata anche per estorsione minacciò un altro indagato con una pistola al volto intimandogli di non far concorrenza sulla piazza di Maiori. In totale sono 40 gli indagati ai quali sono contestati 500 episodi di cessione di sostanza stupefacente negli ultimi nove mesi. Le ultime perquisizioni questa mattina nel corso delle quali sono state ritrovate anche le SIM intercettate e utilizzate per l'indagine. Abbiamo un episodio che si è verificato nel febbraio 2016 che documenta in modo inequivocabile come uno degli indagati abbia estratto una pistola appuntandola al volto nel cuore della notte in una sorta di appuntamento svoltosi a Maiori intimando al rivale di non occupare quella piazza di spaccio perché quella piazza di spaccio era sua evidentemente. Quindi non parliamo solo di condotte di spaccio ma anche di condotte che sono ben più allarmanti quindi il desiderio di diventare egemoni su quella piazza. Grazie. Grazie. Grazie.